Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze e in FIPD per lavori tra Montelupo e Ginestra nei due sensi di marcia. Ricordiamo che sono in corso cantieri per un tratto di 400 metri circa all'altezza del Turbone. Recorsi alternativi sulla SP12 della Val di Pesa. Uno sguardo al traffico ferroviario per guasto temporaneo agli infianti di circolazione all'altezza del Vivio Renai sulla linea Firenze-Pisa. I treni regionali potranno subire ritardi fino a 40 minuti. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze e per la cantieristica in Piazza delle Cure, domani e domenica 23 febbraio in orario 7.30 a 19 per sostituzione di una canna fumaria sarà chiuso l'accesso secondario al parcheggio dietro l'area mercatale tra i civici 2 e 3A. Muoversi in Toscana Infra, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!